Un'opportunità per gli amanti del mare e delle discipline subacque, un'opportunità per i giovani e meno giovani che vogliono intraprendere un nuovo percorso formativo e lavorativo. È la Scuola del Mare, una grande opportunità per Sapri e per il Golfo di Policastro, presentata ieri nell'Aula Consiliare del Comune di Sapri. Credo che l'iniziativa della scuola sia importante perché la scuola è un volano di sviluppo sul territorio. Noi stiamo lavorando bene nella nostra sede di Policastro e questo corso promosso da Pirino Giannetti con la sua organizzazione è un friore all'occhiello per la nostra attività. Avremo qui l'assessore Filippelli che rappresenta un po' tutte le scuole di formazione e ci dà grande onore con la sua presenza. Quindi è una giornata per noi importantissima di elevato contenuto di rappresentatività qui nel territorio del Cilento dove noi da ben 17 anni stiamo investendo energie, stiamo formando tantissime persone, stiamo rilasciando moltissime qualifiche professionali. Noi siamo orgogliosi di essere qui in questa terra, curiamo questa nostra scuola, una delle nostre sedi in modo particolare e credo che faremo, con la ripresa che c'è post-Covid, faremo grandi cose qui nel Cilento, con il PNRR, con fondi europei e nazionali faremo delle grandi cose. Presente anche Pietro Giannetti della Subservice Giannetti, il quale ha spiegato il ruolo dell'operatore tecnico subacqueo. Questo è un corso altamente professionale perché forma dei tecnici subacquei. I tecnici subacquei sono un elemento fondamentale in tutte le zone marittime, soprattutto i porti e zone limitropide ai porti. Fanno attività come recuperi, attività, costruzione subacquee, fanno di tutto ciò che si può essere sott'acqua. Noi abbiamo oggi una richiesta fondamentale, non solo nazionale, ma anche internazionale. Abbiamo richieste dalla Comex, dalla Ibregilo, dalla Saipem. C'è una carenza di personale tecnico che logicamente a questo punto abbiamo portato anche in attivo con la Regione Campania di chiedere una spiegazione come è possibile formare questi subacquei con il minor tempo possibile. Questo non solo grazie a noi, ma grazie anche alle scuole e grazie anche alla Regione. Se c'è questa possibilità tentiamo di farcela. Alla presentazione del corso, oltre ai saluti istituzionali del sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ad introdurre e moderare l'evento è stata l'Avvocato Domitilla Di Palma, responsabile legale subservice Sapri. Ad intervenire, Corrado Limongi, preside dell'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci, Antonio Gambardella, reggente della Guardia Costiera di Sapri, Tommaso Cetrangolo, assessore con delega al Porto, Bruno Zappia, consigliere protezione civile di Sapri, Fabio Mazzitelli, Assormeggi Italia, Nunzio Tricoli, tenente della Guardia di Finanza di Sapri, Nicola Riccio, luogotenente delle Forze Speciali Sommozzatori della Guardia di Finanza, i Carabinieri di Sapri e Armida Filippelli, assessore della Regione Campania alla formazione professionale. Noi curiamo molto tutte queste specializzazioni che servono a rilanciare i territori, perché è fondamentale che posti meravigliosi come questi siano veramente posti all'attenzione della Regione e tutte queste specialità siano veramente curate, tutelate e soprattutto abbiano le competenze giuste, perché le competenze devono essere sempre rinnovate, perché sono facilmente obsolescenti, perché ormai abbiamo una long life learning, quindi bisogna sempre curarle, bisogna sempre aggiornarle, però oggi è una grande giornata perché io penso che tutto questo settore abbia un grande rilancio.